buongiorno a tutti benvenuti al focus di approfondimento real estate question mark for the future oggi abbiamo tre operatori di eccezione per il nostro settore che ci annunceranno la partnership con la quale hanno chiesto di collaborare abbiamo quindi emanuele grassi founder e CEO di gma buongiorno 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 antonio catanio ceo di exactor italy buongiorno buongiorno e fabio stupazzini founder di anf advisor in finance buongiorno fabio buongiorno buongiorno a tutti allora grazie per questo intervento e direi di andare subito nel vivo e di raccontarci un po il perché di questa partnership cominciamo con emanuele e allora la partnership nasce sostanzialmente da prima di tutto da una conoscenza e da una stima reciproca tra tra i partner che ovviamente non guasta ed è della base di tutto i partner tra partner ci conoscevamo da tempo sappiamo che l'attività di ognuno è complementare all'attività dell'altro avevamo tutti il desiderio di allargare il nostro business di allargare ma forse ognuno di noi sapeva anzi sicuramente ognuno di noi sapeva che il fatto di uscire dalla propria asset class di riferimento dal proprio focus da quello che sappiamo fare bene poteva essere visto male dal mercato visto come una confusione di genere e probabilmente anche con dei risultati diversi da quelli che abbiamo nel nostro quotidiano quindi abbiamo abbiamo deciso di unire le nostre competenze in sinergia senza diciamo andare a presentarci come come tuttologi ma come una sinergia di tre partner specializzati quindi ognuno fa molto bene quello che sa fare allarga semplicemente il proprio raggio d'azione e lo fa con due partner del quali ha piena fiducia e con i quali ha piacere di lavorare quindi diciamo una logica di specializzazione antonio che cosa pensi di questo discorso della parte sono molto d'accordo con quello che diceva Emanuele il punto di partenza è stata sicuramente la conoscenza la conoscenza e il rispetto reciproco poi noi anche con Fabio abbiamo un rapporto già esistente come Exactor Italy e con Emanuele abbiamo avuto il piacere di conoscerci diciamo durante questo periodo di esperienza nel settore come rischio di ripetere anche delle cose già dette da Emanuele ma di fatto noi pensiamo che questa crisi abbia creato dei cambiamenti all'interno del mercato e sono cambiamenti che richiedono in maniera molto importante la necessità di ampliare le asset class che ciascuno di noi come come operatore del mercato in questo momento sta gestendo e noi pensiamo che si andranno a creare delle situazioni sempre meno nette rispetto a prima dove prima si avevano delle situazioni chiare di crediti problematici piuttosto che di crediti in sofferenza questo questo momento particolare del mercato secondo noi porterà sempre più a situazioni meno nette un po' più al limite un po' più più sfumate dove degli interventi professionali tempestivi e comunque fatti da player che hanno diverse competenze possono evitare quindi il deteriorarsi del credito e creare valore aggiunto sia per per gli istituti che poi questi crediti sono sono titolari o per i player stessi quindi secondo noi come diceva Emanuele è difficile presentarsi come player unici in grado di coprire tutte le varie possibili sfaccettature di queste situazioni e la partnership forse il modo più veloce immediato e anche professionale di gestire situazioni complesse dove ogni partner può valorizzare le proprie competenze ottimo grazie quindi la logica è ognuno fa il suo mestiere via diciamo si opera nelle cose in cui è capace e Fabio qualcosa da aggiungere eh certo io parto dallo dallo spunto di Antonio delle professionalità diverse anche per aggiungere il fatto che sicuramente eh gli ultimi anni ci hanno dimostrato che ehm il modello di business orientato dai grandi acquirenti di questi crediti NPL con eh dei team di recupero interni hanno funzionato fino a un certo punto eh non sta a me dire quali siano state le cause ma sicuramente si è evidenziato oggi il bisogno di avere delle competenze più ampie eh complementari tra di loro quindi competenze sia nell'ambito dei crediti eh garantiti eh garantiti da ipoteche sia nell'ambito dei crediti non garantiti unsecured sia nell'ambito dei crediti nei confronti delle aziende per poter avere dei eh professionisti in grado di aggredire un certo tipo di portafoglio anche variegato e complesso con delle competenze specifiche perché eh appunto i tuttologi eh non esistono ed è molto difficile riuscire a gestire e recuperare nel migliore dei modi un portafoglio così così articolato. Lo scopo di questa joint venture è proprio quella di mettere a disposizione del mercato e degli operatori delle competenze diversificate all'interno di un unico cappello coordinato e pronto per per lavorare questi portafogli complessi per cercare di eh provare nuove strategie, nuove soluzioni a un problema che come dicevo all'inizio del mio intervento è proprio quello, il fatto che i risultati in questi anni non sono stati quelli eh delle aspettative e che si attendevano gli investitori e gli stessi acquirenti di questi portafogli. Ottimo, grazie. Allora diciamo che comunque il nostro mondo è un po' piccolo quindi magari eh i nostri spettatori ti conoscono già però anche per un profilo di eh completezza chiederei un altro giro, vi sono parlato di specializzazione di ruoli, magari ciascuno di chiarire quello che è il ruolo della sua società all'interno degli altri. Quindi ritornerei con Emanuele e ti chiederei che esattamente di che cosa si occupa GMA e quali sono le le sinergie che apporta diciamo a questa partnership. Allora mh sarà molto semplice per tutti e tre eh presentare le sinergie perché fortuna vuole le nostre attività sono veramente molto complementari e le asset class sono molto distinte. La nostra è quella del credito ipotecario quindi quella che possiamo definire immobiliare. Peraltro l'azienda GMA nasce come società immobiliare, nasce nel 2008, nasce specializzata nel già nell'avere a che fare con real estate distressed, cioè con situazioni problematiche sotto il profilo dei crediti, creditori e procedure pendenti e quant'altro e va specializzandosi negli anni successivi come special servicer di operazioni di cartolarizzazione, di veicoli, di fondi e quant'altro. Eh a oggi GMA eh appunto è uno special servicer di crediti ipotecari eh ha il suo attivo mh una ventina di di operazioni nella quale è nella quale è special servicer. Abbiamo numerose Reoco, peraltro lo strumento Reoco era uno strumento che già conoscevamo e già ehm utilizzavamo nelle nostre cartolarizzazioni. Semplicemente ora si può si può chiamarlo Reoco diciamo con la R maiuscola perché è stato eh posto in prassi da c'è passato da prassi a legge negli ultimi diciamo due anni legislativi. Oggi contiamo all'attivo 10, 12, adesso non ricordo più, Reoco appoggiati a a veicoli di cartolarizzazione. Stiamo lavorando su alcune cartolarizzazioni immobiliari quindi sostanzialmente siamo sul pezzo e molto focalizzati, molto eh verticali sulla componente real estate, sulla componente secured di questa attività. Ottimo, grazie. Antonio eh dire cosa si occupa Exactor Italy e quindi come si incastra nell'ambito di questa partnership? Sì, allora Exactor Italy ehm è un player specializzato nell'acquisto e gestione di portafogli crediti unsecured. ehm principalmente retail però anche eh SMI volendo e ovviamente è specializzata nella nella gestione industriale di questi crediti cioè quindi le classiche attività di phone collection, field collection piuttosto che eh master legal e come dicevamo prima è molto complementare alle attività che di GMA e di AF. Quindi eh noi siamo in grado di contribuire a questa partnership gestendo la parte frammentata dei portafogli crediti e comunque la parte unsecured che oggi eh vale una percentuale comunque importante dei portafogli che che in qualche modo vengono gestiti o o transati sul mercato degli NPL. Grazie mille. Eh chiudiamo quindi con Fabio Stupazzini, Advisory and Finance. Come si completa? Noi abbiamo una doppia anima. Entrambi i miei colleghi hanno parlato di numerose operazioni di cartorializzazione. Noi siamo non a caso il loro arranger e l'entità che li ha aiutati a strutturare queste operazioni e che gestisce da un punto di vista non del recupero specifico del credito ma di tutto quello che è complementare nella gestione della cartorializzazione gestisce queste operazioni e i veicoli sottostanti. E questa è la prima anima. La seconda anima è un'anima di consulenza in ambito aziendale e quindi abbiamo una serie di eh professionisti eh dottori commercialisti, avvocati intorno al nostro network che sono disponibili per ehm essere a disposizione di eh l'analisi e anche la gestione dei crediti nei confronti delle aziende. Diciamo aziende medio piccole e anche grandi con la possibilità di ricoprire tutti i ruoli necessari in un eh contesto di questo tipo eh vale a dire sia l'analisi dei piani sia la severazione degli stessi sia poi l'implementazione di questi piani svolgendo i ruoli di temporari manager o di eh consigliere indipendente o anche di collegio sindacale all'interno delle aziende. Abbiamo chiarito un po' le motivazioni della partnership e il ruolo di ciascuna entità all'interno. Direi di passare alla conclusione con un ultimo giro nel quale magari mi raccontate dal vostro punto di vista in questo momento che potremmo definire in qualche modo tra il critico e lo straordinario quindi con un lockdown che si è appena concluso e sembra diciamo una quantità eh particolarmente rilevante di nuovi flussi diciamo sia singolarmente che all'interno di questa partnership. Voi come vedete questo momento? Se è un momento di particolare opportunità per le nuove nostre da gestire o di critica criticità eh per i problemi che insomma un po' caratterizzano la gestione. Vi partiamo da Eman. Eh grazie. L'opportunità o criticità spesso è solo un punto di vista. Magari si parla delle stesse cose e poi qualcuno le vede le vede in un modo e qualcuno le vede nell'altro. Diciamo che eh secondo il nostro punto di vista per quell'indagine che possiamo fare del mercato coadivati dai dati e anche e soprattutto direi per l'esperienza nostra diretta in questi mesi ehm non siamo ancora in grado di tirare le fila perché ci sono ancora troppe variabili aperte la prima delle quali è che praticamente i tribunali non hanno ancora riaperto. eh a oggi diciamo il nostro ufficio tiene monitorato la eh pubblicazione delle aste e praticamente non si vedono nuove aste di qui ai prossimi quarantacinque giorni. Quindi di qui alla metà di settembre considerando le interruzioni feriali del tribunale non avremo movimento sotto il profilo giudiziale. Eh sotto il profilo immobiliare la la situazione è anche piena di punti interrogativi perché di fatto le città non si sono ancora ripopolate eh e non si sa quando si ripopoleranno eh e soprattutto non abbiamo bene idea di quali saranno gli effetti di un'eventuale nuova ondata di covid quindi se ci richiuderemo banalmente ancora tutti in caso se potremo con delle precauzioni eh svolgere le nostre attività e permettere agli esercenti piuttosto che alle attività di di svolgere il loro lavoro. Quindi forse questo è un momento attendista sotto questo profilo eh per quanto ci riguarda il momento di eh di essere pronti di di poter cogliere opportunità in un certo senso e dall'altro anche di eh di dare ai nostri clienti un servizio veloce, un servizio eh che si sape adattare velocemente i cambiamenti e che sia pronto a eh eventualmente trasformare ecco riprendendo la eh la tua battuta iniziale usandola come chiosa eh prendere delle criticità e trasformarle in ottimo sempre diciamo uno spunto interessante e Antonio invece? di sicuro cambiamento cioè eh sicuramente eh questo momento cambierà il modo di eh gestire il credito poi ehm sono d'accordo con Emanuele criticità e opportunità sono due facce più o meno dalla stessa medaglia no? Eh sicuri noi gestiamo delle asset class che eh sono un po' diverse gestendo un asset class un sec soprattutto il diciamo le criticità oggettive che derivano dal dal diciamo dal non esserci dei ritardi nelle aste o dal dall'allungamento di alcune tempistiche della giustizia per noi in questo momento non è così evidente. Ovvio che noi abbiamo avuto dei momenti eh di maggior difficoltà quando appena successo la appena c'è stato il lockdown quindi con i ritardi per esempio nei pagamenti della cassa integrazione eh adesso la situazione si sta normalizzando. Rimane inteso che la l'incertezza di quello che sarà nel futuro è la vera è la vera chiave di lettura perché se questa situazione dovesse ripresentarsi a quel punto gli impatti e le conseguenze sono o sarebbero del tutto del tutto imprevedibili. Di sicuro eh ci saranno delle opportunità bisogna essere pronti a accoglierle e bisogna essere innovativi cioè quindi bisogna cambiare il modo di gestire il credito. Prendendo in considerazione anche soluzioni, soluzioni diverse, tecnologicamente avanzate, un uso più attento di scoring model, di advanced analytics, cioè la capacità, una capacità di analisi anche diversa e più approfondita rispetto, rispetto a prima. Però ripeto ehm noi ci vediamo anche delle opportunità importanti, bisogna vedere però poi come questa situazione si sviluppa nei prossimi mesi. Chiudiamo con Fabio, opportunità, criticità, come si presenta il futuro? Diciamo che la nostra partnership o joint venture era nata appunto come un uno strumento da mettere a disposizione il mercato degli operatori per il futuro eh nell'ambito di una crescita dei volumi di transazioni, di cessioni di UTP ehm e questo chiaramente rimane valido e anzi penso che la situazione attuale eh necessariamente eh farà arrivare a un repricing di tutto il mercato perché eh già era una situazione legata alle performance passate eh tutto quello che sta succedendo, i ritardi che si accumuleranno nei prossimi mesi o anni eh sia nelle gestioni legali che stragiudiziali non farà altro che forzare gli operatori a fare un repricing e nell'ambito di questo repricing eh devono inserire come diceva Antonio, come diceva Emanuele, anche eh la possibilità di nuove tecnologie, di un nuovo approccio. E tutto questo però diventa ancora più vero forse sul portafogli pregressi perché eh in questo momento questi portafogli soffriranno, stanno soffrendo e soffriranno un un allungamento. Già diciamo le performance non erano eh quelle attese, come ho detto prima, in più questi ritardi, questo lockdown dei tribunali eh e questa situazione comunque di emergenza sia per le aziende che poi per i lavoratori delle aziende porteranno a dei eh delle problematiche nell'attività di recupero e quindi a maggior ragione c'è bisogno di competenze particolari, specifiche e di una maggiore attenzione nella gestione di questi portafogli che devono essere gestiti evidentemente con un nuovo ritmo, con una nuova impostazione e con nuovi strumenti se si vuole un po' cercare di recuperare il tempo perduto perché mentre sui nuovi si può ricorrere a un nuovo nuovo paradigma di prezzo tra cedente e cessionario, quelli purtroppo pregressi sono già stati acquistati quindi il prezzo è quello se si vuole recuperare e non non solo il capitale ma anche il rendimento che si era previsto di fare e bisogna cercare di cambiare decisamente eh l'approccio del recupero, l'approccio della gestione. Avete visto il focus di approfondimento Real Estate Question Mark for the Future. Ringraziamo i nostri ospiti, arrivederci, buona giornata. Ringraziamo i nostri ospiti, arrivederci, buona giornata.